Michael Dennis Whitbread, accusato di aver ucciso la convivente Michelle Fiers, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari. L'omicidio della 66enne inglese fu compiuto a Casori il 29 ottobre del 2023, nel casolare di Contrada Verratti, dove la coppia inglese conviveva, ma il corpo senza vita della donna fu scoperto il primo novembre da un'amica della vittima, preoccupata per il lungo silenzio della 66enne. Il 75enne stradato dall'Inghilterra il 28 marzo scorso e ora recluso nel carcere romano di Rebibbia, è accusato di aver ucciso la convivente Michelle Fiers con nove coltellate alla schiena e al torace e di essere poi fuggito in Inghilterra. Il reato, di cui Michael Dennis Whitbread dovrà rispondere davanti alla magistratura italiana, è dunque di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza. Questa mattina, in tribunale a Lanciano, era previsto l'interrogatorio di garanzia da remoto, a cui hanno preso parte il GIP Chiara D'Alfonso, che ha anche fissato il processo in corte d'assise con inizio il prossimo 22 novembre, il procuratore capo Mirvana di Serio e il legale dell'imputato Massimiliano Sicchetti, avvocato d'ufficio e ora nominato di fiducia da Whitbread. Al 75enne inglese il GIP ha contestato le accuse di omicidio, che si basano su importanti indizi probatori, a cominciare dalla circostanza accertata da filmati delle telecamere, che dal 29 al 31 ottobre 2023 nessuno è mai entrato nel casolare di Contrada Verratti. Le perizie hanno inoltre confermato la presenza di tracce di sangue dell'uomo sui vestiti della vittima. Il mio assistito scriverà un memoriale in cui spiegherà la sua versione dei fatti, ha dichiarato l'avvocato Sicchetti, dopo la lettura degli atti valuterò anche elementi che siano a favore del mio assistito. Nessun altro indizio sarebbe invece emerso dall'analisi dei dispositivi informatici sequestrati e analizzati dal consulente del procuratore. Nulla di rilevante neppure da pc, telefonini e smartphone. Il movente dell'omicidio sarebbe stata la decisione di Michelle Fiers di lasciare Whitbread dopo la scoperta di un'altra relazione dell'uomo da circa un anno. Ora si attende il trasferimento del 75enne inglese nel supercarcere di Lanciano.